Tipologia di pazienti che si rivolgono all'ambulatorio in casa di comunità. Presso la casa di comunità di Laveno Monbello accedono i pazienti affetti da scompenso cardiaco e da patologie croniche riguardanti il cuore. Tipologia di pazienti che si rivolgono all'ambulatorio in ospedale. All'interno di questo ambulatorio vediamo svariati tipi di pazienti in ambito cardiologico, vediamo pazienti che sono affetti da cardiopatia ischemica cronica, vediamo pazienti che sono affetti da aritmie quali fibrillazione atriale, extrasistolia ventricolare e sopraventricolare, scompenso cardiocircolatorio, pazienti con problematiche a livello di valvole cardiache. Descrivi la tua attività in casa di comunità. Presso la casa di comunità svolgiamo una prima parte che si compone di un'adeguata accettazione di pazienti inviati dal medico di famiglia oppure da altri specialisti presso il nostro ambulatorio con una sospetta diagnosi di scompenso e quindi attraverso l'esame clinico, l'esame elettrocardiografico ed ecocardiografico color dopper andiamo effettivamente a dimostrare la presenza di questa diagnosi. La seconda parte invece dell'attività si svolge sui pazienti anoninoti, quindi pazienti cronici con già una diagnosi di scompenso che vengono seguiti con uno stretto follow up per l'adeguata rimodulazione terapeutica. Descrivi la tua attività in ospedale. La mia attività in ospedale consiste appunto nel valutare i pazienti che afferiscono all'ambulatorio di cardiologia mi occupo principalmente di esecuzioni di visite cardiologiche ed elettrocardiogramma, ecocardiogramma esecuzioni di test da sforzo, lettura di ECG dinamico secondo alter, quindi la lettura dell'alter nelle 24 ore il monitoraggio della pressione nelle 24 ore e questi sono tutti gli esami che facciamo a livello ambulatoriale. Mi occupo poi delle varie consulenze preoperatorie nei reparti di ginecologia, nei reparti di ortopedie, nei reparti di chirurgia consulenze nel reparto di psichiatria e inoltre sono ovviamente a disposizione per tutta la durata della giornata per quanto riguarda le consulenze in pronto soccorso per tutte le varie urgenze cardiologiche. Qual è l'obiettivo dell'intervento? L'obiettivo dell'intervento vuole essere una diagnosi precoce effettuabile già a livello del territorio in modo tale da intercettare i pazienti affetti da scompenso cardiaco e possibilmente prevenire un eventuale accesso ospedaliero tramite i sistemi di emergenza e gestire anche grazie alla rete con il territorio direttamente sul territorio stesso con i medici di famiglia i pazienti affetti da scompenso cardiaco. Allora l'obiettivo del nostro intervento ovviamente a livello ambulatoriale è quello di andare a seguire dei pazienti che hanno già delle problematiche cardiologiche come possono essere i pazienti con scompenso cardiaco pazienti con valvulopatia o pazienti affetti da cardiopatia ischemica e cercare di eliminare tutti quei fattori di rischio che potrebbero provocare una recidiva delle varie patologie. Ci occupiamo poi anche di pazienti in prevenzione primaria cioè quei pazienti che sono affetti da svariati fattori di rischio e che quindi correggendoli cerchiamo in qualche modo di ridurre la possibilità di avere un evento cardiaco negli anni successivi. Per quanto riguarda ovviamente il pronto soccorso andiamo a trattare tutte quelle che sono le patologie acute cardiologiche quindi possono essere l'infarto, la sindrome coronarica acuta, l'angine stabile, l'embolia polmonare e quindi diciamo così curiamo e prepariamo i pazienti che sono più critici perché vengano poi trasferiti presso l'ospedale di Circolo di Varese che risulta essere ovviamente il nostro ospedale di riferimento. Quali sono i professionisti con cui ti relazioni maggiormente in casa di comunità? Presso la casa di comunità collaborano infermieri di famiglia, operatori sociosanitari e ovviamente gli specialisti delle varie discipline ambulatoriali. Quali sono i professionisti con cui ti relazioni maggiormente in ospedale? Le professionisti con cui mi relaziono maggiormente sono sicuramente i colleghi del pronto soccorso perché vengo quotidianamente chiamato almeno tre o quattro volte in pronto soccorso i altri professionisti sono per esempio il diabetologo che il giovedì e il venerdì fa di vita ambulatoriale qui nell'ospedale di Cittiglio e poi sicuramente anche mi relaziono con altri professionisti quali ovviamente gli ortopedici e i chirurghi quando vado ad eseguire delle visite preoperatorie ed inoltre normalmente ricevo anche telefonate dai medici di base per chiedere dei consigli oppure per poter mandare dei pazienti per essere valutati. Una storia da raccontare che esprima la tua quotidianità in casa di comunità. Un aneddoto che mi viene in mente è quello di un paziente che accedeva presso la casa di comunità per effettuare una visita diabetologica durante questa visita diabetologica ha avuto un dolore toracico ed è bastato accedere alla porta accanto dove ero presente io abbiamo effettuato un elettrocardiogramma una diagnosi precoce di una patologia cardiaca e abbiamo indirizzato il paziente attraverso il 118 presso il pronto soccorso dimostrazione della stretta collaborazione che ci può essere tra i vari specialisti presenti qui in questi ambulatori. Una storia da raccontare che esprima la tua quotidianità in ospedale. Sì, è un mio paziente di 47 anni che è in cura da svariati anni paziente con molteplici fattori di rischio cardiovascolare fumatore, una pesante familiarità dal punto di vista di cardiopatia ischemica sovrappeso, iperteso che per i primi 2-3 anni io ho cercato di curare farmacologicamente ma il paziente non rispondeva a questo tipo di terapia perché era molto disordinato da un punto di vista della salute. Due anni dopo che io l'ho conosciuto ero qui un giorno, mi chiamano dal pronto soccorso il paziente aveva un infarto in atto per cui sono andato in pronto soccorso ho curato il paziente per quello che riguardava la mia parte poi l'ho trasferito d'urgenza per fare una coronarografia e riaprire la coronaria che stava dando in quel momento l'infarto è andato tutto bene, il paziente si è ripreso fortunatamente anche l'infarto è risultato di entità limitata fortunatamente il paziente dopo questa esperienza probabilmente lo spavento ha cominciato a prendere la terapia ha cominciato a seguire i vari consigli che io gli ho dato e direi che adesso siamo a due anni dall'evento che ha avuto e va tutto bene per cui questo è stato anche per me soddisfazione perché vuol dire che il paziente ha capito comunque la serietà del suo problema e ha cominciato a curarsi in maniera efficace un consiglio ai pazienti per utilizzare al meglio la casa di comunità innanzitutto è importante che i pazienti conoscano la presenza di questa disponibilità presente sul territorio e anche i medici di famiglia sono informati del fatto che è possibile nelle strette vicinanze territoriali accedere a delle visite all'alta specializzazione un consiglio ai pazienti per utilizzare al meglio l'ospedale allora per quanto riguarda i pazienti che vengono in pronto soccorso direi ai pazienti di non sottovalutare assolutamente sintomi che possono far pensare a un infarto comunque a un problema cardiaco acuto una mancanza di fiato improvvisa avere un dolore a livello toracico, retrosternale quindi non aspettare ma rivolgersi immediatamente al pronto soccorso cercando di non perdere minuti preziosi perché nel momento in cui ti vai a rivolgere subito al pronto soccorso noi professionisti possiamo aiutarti e possiamo anche salvarti la vita per quanto riguarda i pazienti che hanno già avuto una problematica cardiaca quindi cardiopatici schemici cronici oppure i pazienti con scompenso cardiaco fare regolarmente visite cardiologiche senza ovviamente saltarle perché è importante che anche dopo l'evento il paziente venga seguito dal cardiologo per evitare delle recidive oppure degli episodi di scompenso cardiaco acuto che possono poi portare al ricovero e per quanto riguarda i pazienti in prevenzione primaria non trascurare comunque i vari fattori di rischio ma sicuramente rivolgersi al cardiologo per cercare subito di tamponare la situazione cercare di ridurre il più possibile questi fattori di rischio per evitare in futuro di dover aver bisogno del cardiologo per problematiche cardiache acute qual è il saluto migliore da parte di un cardiologo? arrivederci e mi raccomando la prevenzione è la miglior cura allora il saluto che io voglio fare è questo prendo un vecchio e famoso detto che è occhio non vede cuore non duole per dire invece occhio vede cuore non duole proprio perché secondo me quando uno ha dei problemi cardiaci o pensa ad avere dei sintomi che possono essere correlati alla parte cardiaca è meglio subito venire in pronto soccorso è meglio subito fare una visita cardiologica senza sottostimare il problema in modo tale da poter agire immediatamente e poter porre rimedio prima che sia troppo tardi